Vogliamo creare una rete di imprese fatta da cittadini, da imprese agricole, ma anche B&B, da piccole botteghe, da scuole, da ristoranti, da gruppi d'acquisto, da arpigiani e da qualsiasi produttore di beni o fornitori di servizi, mosse dalla volontà di prendersi cura del nostro territorio. E quindi, FIGOS! Nel 2020 abbiamo iniziato una sperimentazione. Stiamo utilizzando una piattaforma informatica che ci permette di gestire ordini condivisi e diversi punti di ritiro e quindi di collaborare con gas e botteghe già esistenti. Ma anche se non hai idea di cosa sia un gruppo di acquisto, ma sei comunque interessato a conoscere il cibo che mangi e soprattutto chi lo produce e come, oppure sei un produttore di cibo sano e con un'etica forte. Diventa da subito parte attiva di FIGOS, come cliccando sul link alla fine di questo video troverai tutte le informazioni che ti servono. Ma tu vai ancora davvero sul mercato?